Allora ragazzi vi faccio vedere nel concreto quello che intendevo prima Allora, perchè sono nel negozio? Non lo so, sperimenti, vi faccio vedere Ok Alessandro è entrato, grande Alessandro Allora, lasciate stare Foden che è stata una botta di culo che l'ho sniperato ad una cifra veramente... Non ve lo dico nemmeno perchè mi mettete le mani nei capelli Allora Muriel, 6500, mi mettevo 1000 crediti sotto Quindi andavo a fare un guadagno di all'incirca 600-650 crediti, dipende Che ve lo prendevo 5.4, 5000, ne ho preso una 1.900 Quindi cosa facevo? Prendevo Muriel, sniperavo, pa 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 Infatti ne sono uscita a stecca, qua solo nella pagina ce ne sono 5-7 Poi stessa cosa Dunfris che sono giocatori che vanno tra l'82, l'80, massimo 83 Questi sono i giocatori che possono essere sniperati Stessa cosa Semedo, questo è stato uno dei primi che ho preso Lasciate stare questi due che li ho messi sul mercato così Stesso discorso lo potete fare per Rebic Che io adesso l'ho preso sui 2000 ma adesso a 3000 non si vende Io lo tengo lì, non mi servono questi crediti Li lascio lì, li lascio a vendere e quando si vendono, li vendo Tanto per il momento non ne ho bisogno Perché voi dovete fare anche ragazzi un discorso su che player siete Nel senso, se siete player forti, bravi, allora voi dovete puntare tutto sulla squadra Io faccio sempre il solito rapporto, dovrebbe essere un 70% e un 30% diviso come 70% squadra, 30% trade o il contrario Se siete più trader, vi piace lavorare di più con il mercato perché vi appassiona il mercato Allora fate il 70% dei crediti che avete sul mercato e il 30% lo mettete sui giocatori, sulla squadra Ora, questo per esempio pratico, ho un milione, 700.000 li investo, 300.000 li metto per la squadra Ora vi faccio vedere gli investimenti a lungo termine che ho fatto io Che sono molto ma molto interessanti ragazzi Allora, c'è Alaba, Alaba, giocatore 84, pagato 9500 crediti Già adesso dovrebbe essere intorno ai 12.000 ma non è questo il punto Il punto è aspettare il one to watch, il one to watch che dovrebbe uscire a breve Quindi, Alaba base scompare dai pacchetti Siccome è un buon difensore per la Liga e nella Liga ricordiamo che non c'è più Sergio Ramos Lui diventa uno dei papabili titolari per una delle prime weekend league Quindi, noi cosa andiamo a fare? Lo prendiamo a 9500 e molto ragazzi, ma molto probabilmente lo venderemo al doppio del prezzo Quindi 20.000, questo è un investimento già per chi ha un po' più di crediti Quindi, noi andiamo sul mercato Ok, andiamo sul mercato, per esempio Un altro giocatore che mi ha fatto impazzire Che però non ho avuto tempo di prenderlo E' lui Che non dovrebbe superare E infatti ragazzi, Kayaverse Secondo me è uno di quei giocatori Che se lo snapperiamo Cioè 84 ragazzi, parliamoci chiaro L'anno scorso era in hype, in questo periodo costava già intorno ai 100.000 crediti Perché era in hype, nuovo giocatore Triple entesa con Berner Allora, per questo era molto in hype Quindi è un giocatore che non può essere confrontato con i prezzi dell'anno scorso Io faccio così Allora, vediamo innanzitutto se esce Ok Io, in questo momento ragazzi Per chi non lo sa, noi stiamo andando a snapperare Eccolo qua E ragazzi, 9100 Onestissimo Kayaverse Che io prendo e butto direttamente Nella mia lista trasferimenti In attesa di un rialzo Del giocatore Adesso Ho 20.000 crediti Cosa posso fare? Continuo ad investire? Continuo a tenere i giocatori fermi nella lista trasferimenti? No Cosa faccio? Mi vado a scegliere un bel giocatore Ad esempio Ad esempio Ad esempio Uno come Zieliski Zie... Zie, zie, zie Eccolo qua Allora, vado a vedere un attimo il prezzo di Zieliski Che è abbastanza basso Ok, vediamo un po' 1200 non si trova 1700 non si trova Ottimo 2100 Allora, 2100 lo togliamo subito ragazzi Allora, 2100 mi sembra Buono Mi sembra abbastanza buono 2100 Allora, vediamo un po' Se io tipo faccio 2200 2200 pure lo riesco a togliere Quello a 1200 era buono ragazzi Allora, fermi un attimo Che forse l'abbiamo trovato Eccolo qua Questo è il nostro giocatore Vai, voglio farla mattata Ci voglio guadagnare 590 crediti Vai, vediamo se esce 1700 Peccato, vabbè Vediamo un po' No Allora, 1700 lo troviamo Quindi siamo su 390 crediti di guadagno Che a mio parere non è affatto male Per un giocatore Il problema è che dobbiamo vedere se esce Quindi da 390 passiamo a 290 1900 non si trova Allora, proviamo 1700 Ah, peccato, peccato, peccato Ok, questo l'abbiamo preso Magari possiamo prendere per questo A me mi sembrava abbastanza Assurdo prenderlo Però ragazzi Abbiamo preso uno Zilisca a 1700 Ora, il suo prezzo È di 2200 Noi abbiamo appena guadagnato 390 crediti per l'esattezza Da Piotro Zilisca Ragazzi, quando è così Fermatevi, cambiate il giocatore Perché magari Non Non va Allora, andiamo a vedere un po' Il prezzo di questo James Che si aggira in circa Intorno ai 2000 crediti Che non è male Ok, 2300 Ah, peccato Questo era bello Però Buono Ottimo ragazzi Ottimo Che non ce ne sono In quel momento Ok Qualsiasi giocatore Io vi dico un giocatore Voi lo prendete Lo volete snaggelare Ok, allora Non lo trovo Al prezzo Che dico io Il prezzo di vendita Di James È 2000 Cosa facciamo? Noi dobbiamo arrivare Massimo A 2000 crediti Ok Noi possiamo fare Così Il discorso è sempre Avere l'ultima puntata Diciamo vostra Quindi in questo caso Io se punto 1700 Il mio Diciamo avversario Punta 1800 Io punterò 1900 E lui punterà 2000 Quindi in questo caso Io avrò sbagliato Quindi cosa faccio? Io vado a puntare 1600 In modo tale Che nel momento In cui io vado A fare Vado a fare Di nuovo l'asta Magari lui si scoccia E non rientra più Nell'asta E quindi io vado A prendere un giocatore Al prezzo Che dico io Lo voglio prendere A 2000 crediti Parto in modo tale Da fare Un 4 aste Cioè 4 puntate 2 puntate In modo tale Che l'avversario Si va Diciamo Perde interesse Per la mia asta Ok Stessa cosa Andremo a fare qua Andiamo a puntare 1600 E invece qua Già hanno puntato 1800 Nel caso di 1800 Non andiamo a puntare 1900 Perché il nostro massimo È di 2000 Quindi noi andiamo a puntare Direttamente 2000 E ce ne andiamo così Se l'asta non va a buon fine Sti cazzi Ok Allora Stessa cosa Andiamo qua Prendiamo 1600 Credit e li puntiamo Noi partiamo sempre Da una Puntata di base Ok 1600 Ora ovviamente Ragazzi Se vi mettete a fare l'asta Su di me Potreste anche dirmi Questo non funziona Inutile che lo fai Però se mi date Giusto Il tempo Di farvelo vedere Così Così Ne prendo un paio E poi ve li do Sfortunati che prendiamo Tutte le aste Ma Vedete Guardate qua Guardate qua Forse questo Lo prende Forse Forse Allora Ci dobbiamo Qualificare Come ogni anno Bisogna Bisogna fare i punti Che ci permettono Di accedere Allo game league Ma Come funziona Quest'anno Si ottengono Prima i punti Quindi noi Prendiamo prima i punti Della weekend league Che sono 2000 Ok Poi Che succede Si avanza I playoff Che sono Le qualificazioni Che sono 9 partite E Se si arriva Ad un tot grado Se non ricordo Al grado 2 Che sono 5 vittorie Su 9 partite Potete accedere Alle finali Champions Che Che è la weekend league Che è composta Da 9 partite Quindi Gioca le finali Disponibile In un periodo limitato Per ottenere Alcune E bla 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 Migliori Non so di cosa Allora I playoff Come sono strutturati Eccolo qua Come vi dicevo A livello 2 Ci sono le qualificazioni Alle finali Ottenute Però poi Comunque Voi potete Continuare Ogni partita Vi da All'incirca 4 punti E ogni sconfitta Vi da un punto Quindi Se voi fate Per arrivare In fase 2 Dovete fare 24 punti Quindi Sono Sono 6 vittorie Scusatemi Non 5 Ma 6 Oppure 5 Più tutte quittate Che alla fine Vi fanno Vi danno 4 punti Comunque Alla fine Sono 5 win Obbligatorie 6 win E diretto Oppure dovete Fare 4 quit Però non so Se sarà Sarà penalizzata La cosa Eccetera Eccetera Accedete Ai playoff Alle qualificazioni O fate 5 win E 4 sconfitte O fate 6 win E siete dentro Automaticamente Cosa succede Dopo Dopo aver fatto Questo Cioè L'accesso Cioè Potete ovviamente Anche andare avanti E una volta fatti Potete arrivare Anche a 68 punti Dopo aver raggiunto Le finale Ok Però adesso Come funziona Una volta che avete fatto I playoff Poi accedete al Foot Champions Che sono 20 partite Qual è Secondo me La Cosa Positiva In quello che sto dicendo Del nuovo sistema Che hanno adattato E che le nuove partite Noi le potremmo giocare Nell'arco di tutta La settimana Ovviamente Dal Lunedì Al Giovedì Venerdì No Venerdì mattina Scusate Perché la weekend league Inizia il venerdì Venerdì Sabato E domenica Weekend league 20 partite Da giocare in 3 giorni Che sono buone Però ovviamente Ragazzi Il livello è aumentato Quindi è tutto Rapportato a quello Che era prima Quindi capite bene Che è diverso Ok È più difficile Perché una volta Ragazzi Una volta che non vi siete qualificati Se non fate 5 win Ragazzi siete fuori Se ne parla la settimana dopo E sarà sempre così Non è che c'è un accumulo Di punti È finita là No Voi dovete Cioè dovete andare Dovete vincere Impossibile Poi ragazzi Se voi Mi seguite Cioè allora Se voi volete Ci sono i vecchi Le vecchie live Dell'anno scorso In cui c'è spiegato Tutto Tutto quello che io faccio Ci sono le prove Novembre Primo novembre 2010 2020 Avevamo Un milione di crediti Novembre Quindi prima dei toti Quindi stavamo proprio a belle Ovviamente FIFA cambia Cambia il mercato Eccetera eccetera Il tempo che ho io Cambia Quello sicuramente Però comunque I consigli sono quelli Ragazzi Quindi il metodo è comprovato Io ho la certificazione Che sono comprovato